Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un veicolo in avaria 4 km di coda tra Barberino e Aglio. In direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipilì a causa di un incendio è chiuso il tratto tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Per questo motivo si sono formate code in direzione Firenze tra Livorno Porto e lo svincolo di Interporto Toscano Est. Sulla A11 in direzione Pisa per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est. I treni a causa di un incendio tra Bolgheri e San Vincenzo potrebbero esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!